Niente da fare per la bisaccese, la compagina di mister Marco Lattarulo va a capo contro il cimitile degli Irpini Mario Tirri e Bruno del Sorbo. Adesso pleauti in trasferta, il Granata dovranno attendere ora la sfidante, ma molto probabilmente sarà la savegnanese di mister Della Marra a contendere la salvezza ai ragazzi Granata, che a Scampitella nel recupero contro i Nolani di Galluccio sono caduti 2-1, complice a doppietta di Bruno del Sorbo, che sta alla quota 6 gol in stagione. Non basta la Tarulli invece, la gemma di Cassani. Adesso ultimi 90 minuti della stagione regolare nel prossimo weekend e poi la post-season per evitare la prima categoria. Nell'altro recupero la scuola del San Vitaliano di mister Di Martino, con il trizzo a Montesarchio, festeggia la matematica salvezza con 90 minuti di anticipo. Niente da fare neanche per la polisportiva Torriere del Lions Group, la FGC Campania aveva proposto un mini-torneo con tutte le vincenti di prima categoria degli otto gironi. Il giorno di B è stato avvito dai grottesi di mister Lanza, quello C dai santo Stefanesi di mister Stabile, ma i forfè delle società ha rinviato il tutto. E per dovere di cronaca anche le due compagini il Pino avevano declinato l'invito della Lega, perché i tesserati avevano già preso altri impegni ed erano impossibilitati a continuare la stagione. Se la FGC Campania vorrà riproporre il nuovo format, se ne ripallerà adesso l'anno prossimo. Grazie a tutti.